Ciao, sono Carti e questo è il terzo giorno del camp con Interla Music Export e Sitz in Amsterdam. Devo dire che sono un po' stanco perché sono stati in tre giorni molto intensi dove ci hanno diviso in vari gruppi in base alla nostra capacità, però posso dire che ho imparato un sacco di cose nuove, lavorando in team con persone che chiaramente non conoscevo di un'altra nazionalità, con un altro workflow, se così possiamo definirlo. Ho avuto modo di scrivere i miei primi testi, cantare addirittura, oltre che produrre, quindi devo dire che da produttore mi può aiutare a completare il mio percorso artistico. Quando fai esperienze del genere capisci quanto è importante la condivisione di idee rispetto a una persona che magari fa una musica totalmente differente dalla tua. Puoi venire? La cosa bella di questa esperienza fa, il fatto che l'essere insieme, tutti insieme, farci lavorare insieme, ci porta ad avere delle canzoni molto più competenti di quello che potremmo fare nelle soli. Quindi l'unione, soprattutto anche nella musica, è importante, fa la forza, vedi? E team one. E non è per tutti. Team one, team one, team one, team one, team one! Era la cosa che dicevi l'ultimo giorno, che magari non sei abituato a parlare con tante persone, magari ti saresti trovata male, invece sei una delle persone che si è trovata meglio con il gruppo. Facendo queste esperienze si capiscono certe cose, quindi non so che telecamera devo guardare, ma ci devo dire grazie, grazie alle ragazze, grazie all'Italia Music Export per questa opportunità. Un saluto da Carti e da... Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti